Sono padre Orzu, vengo dal Tajikistan, sono stato ordinato sacerdote sei mesi fa. Dopo ordinazione sono stato destinato la missione in Russia, la grande bellissima missione in Russia in cui c'è tantissimo lavoro. Ebbene, forse tu mi potrai chiedere, ma la missione è difficile, certamente che con le missione ha le sue difficoltà, come per esempio in Russia noi abbiamo il freddo, c'è tantissima neve, la temperatura stabile è meno 20, meno 30 all'inverno. O poi il fatto della distanza, che devo andare da una parrocchia all'altra parrocchia, o il fatto di non conoscere la lingua o la cultura. Però queste difficoltà non sono nulla di fronte ai beni che noi riceviamo, di fronte alle grazie che Dio ci concede. Perciò della propria esperienza posso dire che durante questi sei mesi ho visto tantissimi beni, come per esempio la conversione dei peccatori, il fatto come la gente si avvicina a Gesù Cristo tramite i sacramenti. Quindi ti posso assicurare che i beni sono più grandi che delle difficoltà. Bene, se tu senti la vocazione missionaria, non avere paura, come diceva San Gionio Paolo II. Lanciati questa avventura a missionare e vedrai come Dio è sempre vicino a te. Grazie a tutti.